Buonasera a tutti, sono felice a nome del comitato scientifico di IRC di aprire questo quarto e ultimo, quantomeno per il 2021, webinar tematico di questa serie di webinar che hanno affrontato le circostanze speciali in ambiente extra ospedaliero, montagne, mari, laghi, eventi sportivi ed ora siamo finalmente arrivati all'intra ospedaliero. Sono felice di condividere la moderazione di questo evento con i miei co-moderatori, Andrea Scapigliati, past president e cardio-onestesista alla Cattolica di Roma, Saverio Talia della terapia intensiva cardiochirurgica pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli e lascio la parola al past president per una introduzione istituzionale. Grazie, grazie Alberto, grazie a te per aver coordinato fino adesso questa bellissima serie di webinar. Hai fatto bene a specificare che è l'ultimo del 2021 perché questi webinar stanno avendo particolare attenzione del successo quindi sarebbe bello poterli continuare anche con il prossimo anno che poi sarà un anno eh o aperto quasi aperto dal congresso sperando di rivederci tutti quanti anche in persona e quindi anche con nuove energie e come ha detto Alberto ci siamo spostati da da ambienti sempre più più remoti e più difficili tornando piano piano verso verso casa cioè verso l'ospedale e e chiudiamo questa serie di webinar con eh le emergenze e le eh la gestione dell'arresto cardiaco in ospedale introduco quindi brevemente per non perdere tempo il primo relatore è il mio particolare piacere presentarvi per chi poi pochissimi diciamo remoti lontani eh per coloro che ancora non lo conoscesse un pass pass presidente di IRC ma soprattutto il presidente elected di eh European Resolution Council che per chi non fosse pratico di queste cose sarebbe quello che è stato eletto ma ancora non è presidente lo sarà appena quello che è presidente non sarà più presidente insomma tanto per complicare sta facendo una sorta di rodaggio accanto al presidente e costui per cui sto spendendo tutte queste parole non è nient'altri che il dottor Federico Someraro che lavora come se tutti sapete a Bologna l'ospedale maggiore ed essendo stato sempre per noi una sorta di così uomo del futuro un astronauta qualcuno che è in orbita attorno a ciò che noi viviamo quotidianamente e che vedremo sempre più lontano degli altri non potevamo che affidargli uno dei temi più importanti nella risposta all'arresto cardiaco alle emergenze intraspedaliene ma con uno sguardo particolare verso il futuro per cui Federico ci parlerà del rapid response system ma una visione per il futuro Federico grazie di esserci grazie Andrea è un piacere essere con voi stasera anche se a distanza grazie per le persone per le parole che hai speso eh esagerate eh forse eh merito un pochino di meno forse sei sotto sotto farmaci per questo mi dispiace e inizio subito la mia presentazione così eh tutti si dimenticheranno quello che hai detto su di me ok vi parlerò del rapid response system eh una visione per il futuro quando quando mi è stata assegnata questa relazione ho pensato a a X-Men a ho pensato a eh agli Avenger e poi ho detto no vabbè ok torniamo con i piedi per terra questi sono i miei conflitti di interesse eh intellettuali eh purtroppo non ho conflitti di interesse legati a questo a questa tematica dal punto di vista economico commerciale sono come al solito eh molto additte da Star Wars e Star Trek ma anche un po' dagli invincibili vi parlerò del rapid response system che è un concetto molto vecchio ma prima di tutto non posso nella mia veste istituzionale raccontarvi cosa dicono le linee guida come voi tutti sapete le linee guida sono un distillato o un frutto che viene fuori dal dal consensus on science di Ilcor una metafora bellissima eh inventata da René Trevisanutto Ilcor è le radici sono le radici di tutte le linee guida ERC è uno dei tanti eh regionalization council che poi eh produce linee guida in Europa e vengono implementate localmente in Italia degli altri cosa dicono le linee guida eh quindi cosa dice prima il consensus on science eh vi faccio questo escursus cronologico per farvi capire anche eh diciamo la timeline con cui sono state prodotte a gennaio duemila e venti Ilcor eh rilascia la raccomandazione sull'emergenza introspedaliero e raccomanda di introdurre un sistema di risposta rapida è un rapid response system perché perché riduce l'incidenza del l'arresto cardiaco introspedaliero e eh la mortaile introspedaliera questo attenzione eh lo sottolineo con una raccomandazione debole perché ci sono poche evidenze su questa raccomandazione questo succede a gennaio viene pubblicato su Resuscitation eh l'articolo di riferimento del gruppo eh Education Implementation on Teams e anche qui eh praticamente la stessa raccomandazione vi faccio vedere lo scursus. Dalle radici di Ilcor eh escono le linee guida a marzo Europeano Resuscitation Council presenta le linee guida con un nuovo capitolo System Saving Life che insieme a Andrea abbiamo avuto il l'onore di scrivere a marzo vengono rilasciate le linee guida e nel capitolo eh System Saving Life esiste il paragrafo diciamo eh dedicato Learning Warning Score, Rapid System e Medical Emergency Team. Niente di diverso da quello eh detto da Ilcor quindi in linea con Ilcor il suggerimento è di introdurre un sistema di rapida risposta con le stesse motivazioni per ridurre l'incidenza dell'arresto introspedaliero e per ridurre la mortaità. Rimane sempre quell'alert diciamo metodologico dove le evidenze sono molto basse. Il concetto di Rapid Response System in realtà nasce in una galassia lontana lontana nel 2006 ma anche prima eh è diciamo una joint venture fra eh clinici australiani inglesi eh questa consensus on science di vita americano eh sistematizzava un po' di ehm di eh diciamo gestione dell'emergenza di interfatte un po' in tutto il mondo. Semplicemente il Rapid Response System c'è qualcuno che ti chiama l'afferent limb e c'è qualcuno che risponde l'afferent limb. Quindi semplicemente veniva sistematizzato chi chiama e chi risponde le esigenze. Da quel da quel tempo in poi eh non so voi ma un po' tutti quanti eravamo chiusi un po' dentro le nostre terapie intensive e chi lavorava fuori era chiuso dentro eh le ambulanze e con la stessa filosofia che eh dalle ambulanze dovevamo uscire fuori e parlare con la popolazione vedi settimana viva nel duemila e tredici la stessa filosofia nasceva dentro l'ospedale sarà ora che usciamo fuori dalle mure dell'intensive care e parliamo con i nostri colleghi che ti chiamano. E questo è il primo messaggio eh quindi lo sforzo comunicativo poi lo vediamo alla fine qual è il che deve avere chi risponde all'emergenza entra è parlare con chi sta fuori dal critical care. Ho provato a immaginare se domani eh Andrea riuscisse a convincere il ministro Speranza e invitarci a diventare consulenti per il Next Generation U per il piano nazionale di ripresa e resilienza ho provato a immaginare cosa eh potremmo proporli. Allora sicuramente prevenzione dell'arresto cardiaco e monitoraggio dei pazienti a rischio e il concetto di cardiac care center sta dentro quel capitolo diciamo del del PNRR del verso un ospedale sicuro e sostenibile. E ancora nel capitolo ho ripreso proprio il piano di nazionale di ripresa e resilienza nella formazione di cerca scientifica e trasferimento tecnologico sicuramente ricerca e sviluppo strumenti innovativi e lo vedremo più avanti e infine nel rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e strumenti della raccolta e l'alloporazione di dati e simulazione ovviamente il regesso sugli arresti cardiaci intra ed ex ospedaliero e ovviamente l'emergenza introspedaliera. Ok proviamo a utilizzare la catena della sopravvivenza declinata da da Smith nel 2017 per l'emergenza intra e proviamo a vedere quali dovrebbero essere i suggerimenti per il futuro. Education. È chiaro che lato di chi chiama e lato di chi risponde la formazione è uno strumento fondamentale che in termini di competenza chi chiama e chi risponde deve avere. Quindi faccio come dire il mio conflitto interesse intellettuale è chiaro che chi ha una formazione certificata IERC-ERC ha un passo in più è innegabile perché è una cosa in cui crediamo da anni è una cosa su cui abbiamo investito da anni qualità e per cui sicuramente chi chiama e chi risponde dove ha una formazione di qualità chiama meglio risponde meglio. Questo forse è un concetto semplice ma da rimarcare. Per quanto riguarda un occhio sul futuro in termini di monitoring sono usciti l'effetto collaterale positivo del covid è stato che molti hanno iniziato a pubblicare cose strane e molti hanno innovato e hanno trovato soluzioni alternative di monitoraggio e il covid possiamo utilizzare possiamo pensare che sia un po' un cavallo di troia per il futuro e quindi ritornando a una vita reale dobbiamo in teoria imparare quello che abbiamo passato in questi ultimi due anni. Per cui in termini di wearable device per esempio tra i knowledge gap e i knowledge gap di Ilcor ti dicono quando danno le raccomandazioni cose su cui non c'è evidenza o su cui qualcuno non ha fatto ricerca e una delle domande nel knowledge gap è qual è il ruolo della tecnologia nel rapid response system e citavano esplicitamente nella raccomandazione Ilcor il remote monitoring è il wearable device. Questo è un articolo che appunto suggerisce di utilizzare dei device indossabili per fare il monitoraggio dei pazienti. Se uno pensa che questa tecnologia è costosa in realtà c'è questo bellissimo lavoro fatto in India usato durante il periodo pandemico proprio per fare telemedicina nelle parti, nelle ward, nei reparti ordinari e a distanza con la tecnologia NFC per tenere monitorati i pazienti. E ancora sempre guardando, stizzando un po' all'occhio la tecnologia, il remote monitoring sempre con la scusa del covid, questo auricolare che riesce, questo è un lavoro molto bello uscito quest'anno, riesce a rilevare temperatura, saturazione eccetera eccetera quindi un altro modo per tenere monitorizzati i pazienti nel futuro. Ancora, ok, abbiamo gli strumenti proviamo a capire che tipo di strumento, che tipo di track and trigger come viene chiamato può essere utilizzato. Io, di caldo il mio conflitto di interesse, sono un fan spiegatato del news, del news 2 e del news 1 e questo era un lavoro che per esempio, una sistematica review che appunto nel covid provava a capire se poteva essere affidabile. Ancora, questo è un lavoro di comparazione nei pazienti septici, come il news si comporta in confronto al SOFA e al SIRS e ancora una volta questo è un lavoro italiano che mi piaceva citare, veniva dalla Cattolica, dal gruppo di Claudio Sandroni e di Massimo Antonelli, appunto come utilizzare learning warning score in dipartimento di emergenza e quindi usare il monitoraggio, riconoscerlo, utilizzare uno score per traccare, triggerare in modo appropriato e il mercato ovviamente, ho messo un po' di cose sparse, si è scatenato su produrre degli strumenti che in qualche modo possono aiutare l'end user, il clinico a fare esattamente quello di cui vi ho raccontato. Addirittura c'è questa telecamera che guardate in basso a destra in qualche modo riesce a rilevare i movimenti del paziente, la temperatura, insomma c'è molta ricerca sull'utilizzo di innovation technology, in quello che viene chiamato wide monitoring, cioè un monitoraggio allargato e credo che sia esperienza di tutti quanti, chi va a correre, che è fanatico delle app, i wearable device dagli occhiali ai braccialetti, ai sensori, ormai stanno esplodendo. In campo clinico ci sono diversi strumenti anche commerciali ma anche di ricerca e quindi io prevedo che nel futuro questo diventerà lo standard of care, sono sicuro su questo. Ok, chiamo, rispondo e quindi chi risponde, e qui vado a concludere, deve avere non tante skill in realtà. In questi vent'anni in cui mi sono occupato di emergenza introsperaliera ho imparato la cosa più importante che qualcuno, quando qualcuno ti chiama, ha bisogno e la prima cosa che non devi fare è, come dire, interagire in modo non elegante. Quindi ci vuole una capacità di comunicazione importante, ci vuole dell'empatia, bisogna mettersi nella divisa dell'altro, nel camice dell'altro e mi sta chiamando per avere una mano e non per ricevere un feedback negativo o per ricevere la classica frase del tipo perché mi ha chiamato questo paziente e così ecco là. Per cui sicuramente uno degli skill più importanti del personale che risponde è avere un'ottima gestione dei non-technical skills, avere un'ottima gestione della comunicazione e dal mio punto di vista qui sei già all'80% delle tue capacità di gestire un'emergenza introsperaliera. Ovviamente in termini di competenza abbiamo detto prima, devi essere un po' un factotum di qualità per cui devi sapere gestire l'arresto cardiaco, la sepsi, la gestione perioperatoria di malati se sei in un ospedale con un'alta, vuol dire, un'alta frequenza di pazienti chirurgici e una delle competenze importanti che chi risponde deve avere e si deve interfacciare è il trattamento di fine vita, quindi è un'altra competenza molto importante. Questo per sottolineare quanto in realtà chi risponde lo deve fare, deve avere una, come deve costruirsi diciamo una reputazione di buon comunicatore, buon gestore della crisi. Con questo vi ringrazio e sono curioso di sentire altre relazioni. Grazie. Grazie mille Federico, grazie mille per questo sguardo veloce ma molto stimolante su quello che potrebbe essere il monitoraggio e quindi anche la capacità di riconoscere e intervenire nell'emergenza introspedaliere ma che paradossalmente sembra avere avuto il suo grande impulso nella gestione dei pazienti al di fuori dell'ospedale. Ci ritorneremo se abbiamo tempo e io chiedo ad Alberto di introdurre il prossimo speaker. Grazie, grazie Andrea, grazie Federico. Allora è per me veramente un grande grande piacere poter introdurre Alessandro Galazzi che è prima di tutto un amico, una persona davvero brillante e umana che ho conosciuto nei miei trascorsi al Policlinico di Milano e lui è un infermiere, un ricercatore, un insegnante per le nuove generazioni di infermieri, lavora nel dipartimento di anestesia, rinnovazione ed emergenza del Policlinico, fondazione IRCCS Cagranda, ospedale maggiore di Milano e ci parlerà anche lui dei rapid response system e abbiamo visto il futuro, siamo partiti e andiamo un po' come i gamberi, adesso ripartiamo dal presente, guardiamo in faccia la nostra realtà, guardiamo in faccia l'Italia e proviamo a trovare gli appigli per sognare in grande come ci ha insegnato Federico. Grazie Ale. Grazie, grazie a te Alberto per le tue belle parole. Dopo la tua presentazione e dopo quella di Federico non è che c'è solo delle aspettative altissime, ma allora aspetta che condivido lo schermo. Il titolo appunto è come ripartire dal presente e grazie anche a IRC per avermi invitato e a tutti voi presenti online per l'interesse a questo argomento. Il titolo come ripartire dal presente è un riflettere sul ripartire o partire, perché questo è un problema in Italia, perché ripartire implica un qualcosa che è già iniziato, ma in Italia, secondo una survey che abbiamo condotto nel 2018, un vero e proprio rapid response system, il MET, in questo caso oggetto dello studio, cioè il Medical Emergency Team, era presente negli ospedali italiani solamente nel 60%. Attenzione, quindi tendiamo un team, quindi composto da un medico e da un infermiere, quindi una squadra per la gestione dell'emergenza. E questo è un po' anche un'anticipazione sul congresso nazionale che si terrà a dicembre, di cui ne parleremo molto approfonditamente. Purtroppo solo il 2,6% degli ospedali italiani utilizza un numero comune per chiamare questo team, questo rapid response system che è il 22-22. Quindi, come dire, dobbiamo partire o dobbiamo ripartire? Per partire o ripartire dopo il Covid, che sicuramente non ha semplificato la gestione e l'organizzazione dei rapid response system, il primo punto è volerlo seriamente implementare. Scegliete che tipologia di rapid response system volete implementare nel vostro ospedale. Generalmente, principalmente in Italia si utilizza il Medical Emergency Team, quindi a risposta medico più infermiere, ma si potrebbero anche implementare dei team specialistici, di cui poi ci parleranno anche le prossime relazioni. Ma noi dobbiamo essere convinti della sua utilità. Come ci ha detto prima Federico, la letteratura supporta che il Medical Emergency Team, rapid response system, sono utili, servono, migliorano gli outcome dei pazienti. Noi dobbiamo esserne convinti. Non solo il Col 2020 propone questa implementazione, ma già a luglio del 2007 il National Institute for Clinical Excellence, nella linea guida 50, sosteneva di dover implementare questa tipologia di sistemi. Segue una raccomandazione per la sua implementazione da parte di IRC e di C-ARTI sempre nel 2007. Un altro punto è creare il gruppo. Creare il gruppo che non solo è quello della terapia intensiva. Normalmente il medico e l'infermiere provengono dalla terapia intensiva, ma ci sono anche delle realtà da cui il personale del MET proviene dal pronto soccorso. Ma rapid response system è anche integrazione e coinvolgere i colleghi delle varie unità operative degli ospedali, perché puoi avere anche il braccio efferente di cui si parlava prima, cioè una squadra per la risposta all'emergenza intraospedaliere meravigliosa, ma se non hai il personale che è sensibile, che è formato nei reparti per rilevare quali sono i pazienti che stanno deteriorando da un punto di vista clinico, i pazienti che necessitano delle cure di un MET, tanto vale andare avanti allora, bisognerà definire chi è responsabile di questo gruppo, chi lo coordina e scegliere ad esempio delle turnistiche. Sempre in un mulino che vorrei, il medico e l'infermiere del rapid response system appartengono a questo MET e sono dedicati a questo. Purtroppo, e anche qua ne parleremo al congresso nazionale, questo non accade nella maggior parte dei casi, questa cosa è disattesa. Allora si potrebbe anche pensare ad esempio un sistema gettone, simil, sistema di emergenza territoriale, in cui il personale potrebbe fare eventualmente una copertura di turni maggiori. Questa, ad esempio, è una proposta che alcuni ospedali hanno. Studiare l'argomento vuol dire che l'argomento va approfondito. È stato detto prima, anche prima del 2006, questa è stata proprio la proposta, diciamo, delle braccia e come è composto un rapido response system, e studiare l'argomento vuol dire approfondirlo, vuole anche dire quale standard formativo ci diamo a chi compone il rapid response system. Scegliamo il BLSD come standard di base per il personale dei reparti, vogliamo approfondire un qualcosa di più, andiamo un ILS, vogliamo far partecipare un vero e proprio corso metal, e dall'altra parte invece il braccio efferente, quindi chi compone questo rapid response system, dobbiamo formarlo a livello di una LS, cioè non basta dire, sì, hanno un'esperienza, sì, piace l'area critica, cioè ci vogliono delle competenze specifiche per gestire l'emergenza introspedaliera, di integrazione, ma anche proprio di conoscenza poi delle procedure che vanno effettuate in questi contesti particolari. Utilizzare strumenti validati, qui propongo, in letteratura ce ne sono vari, ci sono quelli a parametro simbolo tipo il MET, il MULTIPLIC come il PART, oppure quelli aggregati come il NEWS, o in questo caso il NEWS, il National Early Warning Score, che è il più diffuso, adesso c'è la seconda versione che verosimilmente nel futuro sarà la più utilizzata. La simulazione importante, sia in fase di formazione, cioè indipendentemente da quel corso che si sceglierà di fare per formare il personale, la formazione sarà necessaria durante la seduta formativa, durante il corso, in un laboratorio, in aula, ma poi bisognerà assolutamente riproporla anche durante l'implementazione, nelle varie unità operative, quindi nei reali contesti, e non limitarsi a, sì, dovevamo partire col MET, l'abbiamo fatta, ma rutinariamente bisogna prevedere questa simulazione. confrontarsi con altre realtà è fondamentale, è fondamentale soprattutto quando si vuole partire confrontarsi su come fanno negli altri ospedali, come la gestiscono, prima parlavamo della gestione dei turni, come viene eventualmente ulteriormente remunerata questo tipo di attività, che strumentazioni hanno. Da questo punto di vista un ringraziamento particolare, ma perché sono anche più noti, vanno ai colleghi di questo ospedale di Torino, di Catania e di Bologna, che tra i primi hanno incominciato in modo sistematico a descrivere, a scrivere qualcosa in letteratura nel contesto italiano sul MET. Nel 17 c'è stato un vero e proprio gruppo toscano che ha definito delle linee guida di indirizzo a livello di tutta la regione e c'è stata anche un'esperienza precedente in regione Piemonte. Queste linee guida ovviamente si vanno a integrare sul discorso di gestione operative, di pianificazione, integrazione di queste risposte per rendere uniforme la risposta a livello di tutta la regione, come è giusto che sia. Dando anche dei suggerimenti sulla formazione, sugli standard che devono avere i colleghi medici e infermieri che rispondono all'emergenza e che partecipano a questi gruppi di risposta all'emergenza introspedaliere. È una follia pensare che con un BLSD o un retraining del BLSD ogni due anni, e anche qua mettiamoci la mano sulla coscienza, voglio sapere quanti esattamente riescono a avere tutto il personale delle proprie unità operative che è sempre perfettamente formato e aggiornato in questi due anni, riesca a pensare che con questo corso e ogni due anni riescano a gestire perfettamente l'emergenza introspedaliera, che in questo caso è l'arresto cardiaco tra l'altro, e non prevede nessun altro tipo di emergenza. Bisogna anche scegliere i presidi, oltre a risorsa umana fondamentale, è importante scegliere i device che possono servire in questa tipologia di emergenze. La domanda è cosa porterebbe il team di un'automedica, del mezzo di soccorso avanzato per questo tipo di chiamata, se fossero nell'extrospedaliera. Abbiamo la fortuna di operare nell'introspedaliera, quindi proprio non è che non ci sia nulla intorno a noi, e allora chiediamoci qual è la dotazione minima che devono possedere le singole unità operative. Questo si traduce nel che cosa portiamo noi, che è ad esempio questo, adesso stanno andando sempre di più, più che gli zaini spalla, gli zaini controlli, e quest'altro, che cosa troviamo? Cioè il carrello delle emergenze di le varie unità operative, che standard deve avere, ripeto, minimo. E poi questi presidi in mezzo, che potrebbero essere quelli che, ah, li portiamo noi, li troviamo nelle unità operative, poi li troviamo nel trasporto? Ad esempio, ok, che in tutte le unità operative ci sia un defibrillatore semiautomatico, ma ovviamente per un MET sarà richiesto un defibrillatore monitor, defibrillatore manuale, con anche una tipologia di monitoraggio avanzato. L'aspiratore, ok, avremo delle prese a muro, ma su un trasporto bisognerà pensare a un aspiratore portatile, massaggiatori automatici esterni, li porta al team dell'emergenza o saranno presenti in ogni unità operativa? Questi sono tutti aspetti che vanno valutati. Poi metto come nota prevedere un'ambulanza dedicata se l'ospedale è un monoblocco, sì, perché non tutti gli ospedali sono piccoli, monoblocco ed è tutto vicino, pieno di sopra terapia intensiva, pieno di sotto reparto. Se è un ospedale monoblocco con i padiglioni che sono distanti anche qualche chilometro, perché ci sono degli ospedali che sono delle città, deve essere assolutamente prevista la possibilità che esista un'autoambulanza per un trasporto tra un padiglione e l'altro nei vari servizi, non so, dal luogo dell'evento all'emodinamica, alla terapia intensiva. documentare l'attività è fondamentale, quello che non è documentato vuol dire che non è stato fatto. Quindi, soprattutto all'inizio, per un discorso di registrare la tipologia di attività, giustificare quello che viene fatto e poi successivamente fare una valutazione non solo per un punto di vista della qualità, ma proprio anche per capire gli outcome dei pazienti, quello che io ho fatto, quello che il mio gruppo ha fatto e quali sono le tipologie quindi di prestazione, flusso di chiamate, è fondamentale registrare. Registrare come? C'è chi ha delle note particolari in cartella clinica, c'è chi utilizza delle schede specifiche, ovviamente si raccomanda un sistema che è informatizzato, che è accessibile da tutti, computer in rete dell'ospedale e che poi l'unità operativa che gestisce il MET abbia ovviamente un suo registro delle varie attività. Questo che riporto è quello che dal primo di gennaio è stato proposto, del 17 è stato proposto dalla regione Fiemonte. Concludendo, implementare un Rapid Response System è sicuramente possibile. Questo richiede del tempo, richiede delle risorse umane e delle risorse materiali. Deve essere voluto, degli operatori stessi devono capire l'importanza di avere un team per la risposta all'emergenza introspedaliere e deve essere riconosciuto dalla direzione dell'ospedale. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Alessandro, grazie mille. Faccio brevemente dove siamo adesso in questo momento nel nostro webinar. Stiamo parlando di quella necessità di individuare i pazienti prima che si arrestino, quando sono già in arresto e di farlo in maniera migliore possibile, il prima possibile, di organizzare una risposta che sia però realizzabile realmente all'interno dell'ospedale con le risorse che adesso abbiamo a disposizione. Questo è dove ci stiamo trovando. Abbiamo analizzato il futuro, abbiamo analizzato il presente. Adesso scendiamo in alcuni contesti un pochino più particolari. Per cui lascio la parola a Saverio per introdurre il prossimo speaker e andiamo in qualche contesto un pochino più specifico. Grazie Saverio. Grazie a voi, grazie a Irk per avermi invitato a partecipare a questo evento. È un piacere presentare il collega Stefano Scaliacatenacci, che lavora presso l'ospedale Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Stefano ci illustrerà nella sua presentazione alcuni fondamentali concetti che riguardano appunto il Rapid Response System in ambito pediatrico. Perché è importante questo tipo di organizzazione in un ospedale pediatrico centrale, ma anche soprattutto periferico, tenendo conto che spesso gli eventi pediatrici intraospedalieri, come Stefano ci illustrerà, sono spesso preceduti da segnali importanti nelle ore precedenti l'evento critico. Lascio immediatamente la parola a Stefano e ringrazio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito alla partecipazione, grazie dell'introduzione. Ok, parleremo sostanzialmente dell'emergenza intraspedaliere relative al paziente pediatrico e di come sarebbe ideale intervenire e di quali sistemi sarebbero i sistemi ideali appunto. Mi riaggancio un pochino alle presentazioni già fatte e parto dicendo che l'arresto cardiaco, come accennato all'introduzione, non è altro che la fine, il capolinea di una graduale progressione di sostanzialmente di una fisiologia normale, di un'evoluzione verso un deterioramento. Quindi se noi identifichiamo e correggiamo questo deterioramento in maniera precoce, verosimilmente l'outcome per il nostro paziente migliorerà. Il MET in generale nasce molto tempo fa ormai, già nel 1990, e quello che si è visto, e in questo caso parlo di popolazione pediatrica, non di popolazione generale, è che l'implementazione di un MET dedicato all'interno di una struttura ospedaliera che si dedichi solo alle emergenze pediatriche porta una riduzione degli arresti introspedalieri del 37,7%, che mi sembra una quota considerevole, ma soprattutto, e non meno degno di nota, anzi, è il fatto che questo correla ad un'effettiva riduzione della mortalità introspedaliera. Oltre a ridurre la mortalità, va a ridurre quella che è la mortalità dei pazienti che vengono riammessi in terapia intensiva, perché molti dei pazienti che vanno incontro a deterioramento dei segni vitali spesso provengono dall'emergency department o da una terapia intensiva pediatrica. In letteratura è ben chiaro che il fatto di essere riammessi in una terapia intensiva, quindi di aver passato parte del proprio tempo ospedaliero in una terapia intensiva, essere stati trasferiti in un reparto a minore intensità e poi essere riammessi, è esso stesso un indicatore di un peggior outcome e di una maggior mortalità. Si è visto che l'introduzione di un MET, quindi l'early recognition, il riconoscimento precoce dei segnali di deterioramento da parte di un team dedicato, porta non solo a ridurre la mortalità in senso generale, ma riporta la mortalità dei riammessi in terapia intensiva alla stessa mortalità dei pazienti che sono in terapia intensiva e hanno un solo accesso. Ma andiamo a vedere brevemente quali sono i pattern che inducono l'attivazione di un MET, quali sono questi segnali che vanno colti in maniera tale da riconoscere il paziente che sta deteriorando e quindi poterlo trattare. Trattare che non vuol dire riportare in un reparto a maggior intensità, ma magari iniziare un trattamento, implementare il trattamento nel reparto dove il mio paziente giace in maniera tale che questo non evolva verso una terapia intensiva o verso un arresto cardiorespiratorio. Bene, questo è un lavoro del 2016 che va ad analizzare circa 3.500 casi su 151 ospedali negli Stati Uniti in un tempo di circa 6 anni. E quello che vede è che il motivo di attivazione del MET in questi ospedali dove appunto il MET c'era, quindi verosimilmente la risposta primaria è il deterioramento più frequente nella popolazione pediatrica è un deterioramento dal punto di vista respiratorio. E quello che si è visto è che il secondo invece trigger di attivazione del team di emergenza è stata una preoccupazione, una non vedere il bambino bene, passatemi il termine, da parte del personale di reparto e dal personale che andrà ad attivare il MET. Gli outcome dopo attivazione del MET, come vedete, sostanzialmente per una grossa fetta non portano il paziente ad un aumento dell'intensità del reparto dove esso giace. Questo ha indicazione anche che avere un team dedicato che lavora su questo paziente permette di trattare il paziente a casa sua, diciamo. E quindi, ricollegandomi al discorso che faceva Alessandro prima dei costi, e anche ricollegandomi alla prima presentazione dove parlavamo di costi nell'avere del personale dedicato. Sì, ok, devo avere del personale, devo pagare del personale perché lavori specificatamente a questo problema, però mi riduce verosimilmente quelli che sono l'occupazionalità di una terapia intensiva. E quindi da una parte pago più personale, ma sicuramente dall'altra o una riduzione dei costi generali di gestione. Come vedete, solo il 52% delle attivazioni del MET porta a una terapia intensiva e la sopravvivenza, quindi l'outcome di dimissione a domicilio dei pazienti post attivazione del MET è del 93.3%. Questo sicuramente perché gran parte dell'attivazione è su un paziente molto precoce e in parte perché appunto ho un personale dedicato che mi permette di impedire il progredire della patologia verso un arresto cardiaco o l'evento fatale. Da sottolineare, è dato come uno spunto, ovviamente è un dato che apre dei bias di conteggio. Se noi consideriamo la mortalità del paziente pediatrico in terapia intensiva e guardiamo la mortalità del paziente dopo attivazione del MET, vediamo che la mortalità dopo attivazione del MET è più alta, è circa il 6-7%, che è più alta della mortalità in terapia intensiva pediatrica, che sostanzialmente è inferiore al 5% nel mondo. Questo perché? Per due ragioni. In parte potrebbe essere visto come il fatto che bisognerebbe implementare ancora di più i sistemi di riconoscimento precoce del deterioramento di patologia. in parte perché parte dei pazienti che vengono visti dal MET, come vedete il 4-8% dei pazienti su cui è stato attivato il MET, il MET ha posto un DNR sostanzialmente, e quindi abbiamo una fetta di popolazione che non accederebbe alla terapia intensiva, e quindi parliamo di due popolazioni un po' differenti. Rimane comunque lo spunto del migliorare i sistemi di riconoscimento precoce, a mio avviso. Brevi considerazioni. Quello che vede questo studio del 2016, ricitandolo, è che il tempo medio in cui il personale del MET lavora sul paziente è di mezz'ora. Il 25% dei pazienti, e parliamo appunto di 3.500 pazienti, quindi è una media reale, possiamo parlare di numeri veri a questo punto, richiede quasi un'ora. Questo cosa significa? Che al di là dell'avere del personale che lavora su quello e quindi riconosce prima il bambino, lo tratta prima, e riduce le sue ammissioni alle ICU, e riduce la mortalità, migliora l'outcome. Il fatto di prendere il personale da un dipartimento di emergenza, da una terapia intensiva pediatrica, quindi non avere personale dedicato e doverlo spostare a chiamata su un'urgenza e su un'emergenza, capite bene che porta via questo personale, dalla terapia intensiva, durante la giornata per molto tempo. E quindi lascio il mio reparto, non dico scoperto, però depaupero il mio reparto di personale, mentre considerare del personale dedicato lascerebbe il personale della terapia intensiva o del dipartimento di emergenza a casa sua a lavorare sui pazienti che ha ricoverati e mi lascerebbe il mio MET, il mio emergency team, a lavorare serenamente, senza la preoccupazione del reparto, sul mio paziente. e quindi viene da sé che la maggior parte, la maggior parte nel mondo, sempre parliamo nel mondo che vorrei, sarebbe auspicabile l'implementazione di un sistema di rapid response dedicato, di un MET anche pediatrico, non solo adultico diciamo, perché se i numeri che ha fatto vedere Alessandro facevano vedere come appunto non sarebbe tanto una ripartenza, ma una partenza, quando parliamo di pediatrica, è ancora tutto più agli albori, se mi passate un pochino al termine, quindi è ancora più una partenza. e con questo concluderei. Grazie Stefano. Grazie Stefano. Grazie Saverio per la presentazione e scusatemi se vi ho intrattenuto mentre Stefano parlava. Proseguiamo da un ambiente specifico come quello pediatrico a un ambiente ancora più specifico e ho il piacere di presentare il prossimo relatore, Gabriele Arlotta, che è una cardionestesista della terapia intensiva e della cardionestesia dell'ospedale Polichinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che ci parlerà dell'arresto cardiaco monitorizzato e delle emergenze in sala operatoria. Un altro ambiente specifico all'interno dell'ospedale dove l'arresto cardiaco potrebbe essere o può essere considerato di più facile gestione, ma come penso Gabriele ci dirà, non è mai nulla scontato. Grazie Gabriele. Grazie Andrea. Un attimo che condivido il schermo. Bene, grazie Andrea. Ringrazio il Comitato Scientifico di IRC per avermi invitato a parlare di questo argomento estremamente complesso e interessante soprattutto per chi lavora in sala operatoria e nell'emergenza introspedaliera. Parleremo infatti del paziente che in qualunque setting si trovi a essere assistito, quindi in una sala operatoria, in una sala di emodinamica, una terapia intensiva, ha comunque un'unica caratteristica che è quella di essere monitorizzato nel modo più completo come quello che vedete qui con tutte le pressioni cruente, invasive, monitorizzate, quella arteriosa, quella polmonare, quella della pressione venosa centrale, ha anche un monitoraggio più semplice, ma comunque è un elemento che contraddistingue questa tipologia di pazienti e che consente agli operatori sanitari che gli assistono di avere degli elementi in continuo, in real time, estremamente utili per poter valutarne la condizione clinica e l'eventuale iniziale deterioramento fino all'arresto cardiaco. Questa è una frase che è stata detta soprattutto per l'arresto cardiaco intraoperatorio, ma si può estendere a tutti coloro che sono appunto ricoverati in ospedale, cioè nessun paziente la cui morte è prevenibile e dovrebbe morire in una sala operatoria o in ospedale. In effetti il paziente in condizioni di nella fase intraoperatoria o comunque ricoverato in una terapia intensiva, a meno che non stiano in condizioni particolari, direi quasi terminali, ha a disposizione tutta una serie di presidi tra cui appunto il monitoraggio continuo per essere soccorso tempestivamente e per quindi essere trattato al meglio. In effetti le ultime linee guida ERC, anche partendo da questa review del 2015, ci dicono che l'incidenza di arresto cardiaco ad esempio nel contesto intraoperatorio non è elevatissima, ma quando questo evento drammatico si dovesse verificare la mortalità resta ancora estremamente alta. Tra i fattori di rischio comunque le categorie in cui la mortalità è maggiore abbiamo ad esempio le fasce di età al di sotto di un anno o al di sopra degli 80 anni, abbiamo una prevalenza del sesso maschile e delle classi dell'ASA maggiori, quindi 4 e 5 più di tutte le altre. Per quanto riguarda la sede chirurgica, è emerso che tra tutti i vari tipologi di interventi la chirurgia entratoracica è quella che sembra avere una incidenza di arresto cardiaco superiore alle altre tipologie di chirurgia. Ancora questa review del 2017 ci conferma che la classificazione ASA è un elemento predittivo importante sia di maggiore mortalità che di incidenza di arresto cardiaco intraoperatorio, ma la buona notizia è che negli ultimi anni l'incidenza di arresto cardiaco si sta riducendo anche in sala operatoria. Questa review più recente del 2020 che analizza un enorme numero di pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca presi dal registro dell'American College of Surgeons ci dice ancora che l'incidenza di arresto cardiaco non è così elevata ma la mortalità se considerate che questa è quella relativa confrontata con tutta la popolazione resta comunque ancora una volta elevata. I fattori di rischio individuati sono ancora questi cioè una classe ASA elevata la presenza di sepsi o SIRS nella fase intraoperatoria in particolare la tipologia di chirurgia a cui il paziente viene sottoposto la chirurgia in emergenza ovviamente la tecnica anestesiologica con una prevalenza di arresto durante l'anestesia generale. per quanto riguarda la fase del post-operatorio sembra che un fattore predittivo di arresto cardiaco possa essere l'insufficienza l'end stage renal disease cioè l'insufficienza renale associata anche all'età e alla capacità funzionale di partenza del paziente ridotta per arrivare poi alla mortalità a 30 giorni influenzata da tutti questi elementi associati poi alla presenza ad esempio di patologie neoplastiche. nella fase intraoperatoria si possono individuare differenti cause o condizioni che possono predisporre all'arresto cardiaco quali problemi ovviamente legati all'anestesia problemi respiratori cardiovascolari o anche alla stessa tecnica chirurgica pensiamo ad esempio ad un aumento della pressione intraddominale ad esempio durante la paroscopia che può ridurre il ritorno penoso al cuore e quindi destabilizzare pazienti magari non così stabili di loro l'opronodora ciperteso ad esempio elevate pressioni positive di fine ispirazione o le stesse manovre chirurgiche che in qualche modo possono interferire sul circolo e quindi eventualmente portare anche ad arresto cardiaco come al solito le linee guida sottolineano un aspetto importante che noi sappiamo bene essere quello della prevenzione e della preparazione al peggio diciamo con questa bella immagine della catena della sopravvivenza nell'intraspedaliero che ci dice che la prevenzione e l'individuazione dei segnali di allarme oltre ovviamente a una rianimazione precoce sono tra gli elementi più importanti per prevenire e migliorare la proniosi del paziente nell'intraspedaliero e le linee guida del 2021 di ERC ci stressano alcune considerazioni cioè se sappiamo di avere a che fare con pazienti potenzialmente a rischio di arresto cardiaco consideriamo precocemente il deterioramento e quindi allertiamo il team in modo tempestivo e nella fase di preparazione consideriamo il monitoraggio della pressione arteriosa invasiva ad esempio o posizioniamo le placche adesive per la defibrillazione prima per esempio che sia completato il campo operatorio perché dopo sappiamo potrebbe essere più difficoltoso e potremmo perdere del tempo prezioso e teniamo a disposizione un defibrillatore prontamente disponibile consideriamo però ovviamente accessi venosi adeguati al tipo di intervento alla condizione di partenza del paziente e cerchiamo anche di avere disponibili sempre i farmaci del protocollo di gestione dell'arresto cardiaco oltre a fluidi ed emazie per quanto riguarda il protocollo dell'arresto cardiaco il paziente monitorizzato ha delle caratteristiche particolari ad esempio la conferma dell'arresto cardiaco può essere immediata più immediata del normale oltre che la maggior parte dei pazienti magari ricoverati in terapia intensiva o in sala operatoria non hanno l'elemento della coscienza perché sono sedati magari sono già intubati quindi possiamo difficilmente valutarne la presenza o meno di respiro spontaneo mentre invece il monitoraggio elettrocardiografico demodinamico ci danno delle informazioni importantissime tanto che ad esempio nel protocollo di gestione del paziente in arresto cardiaco o in cardiochirurgia questo elemento cioè quello del qualunque ritmo sottostante al monitor associato all'azzeramento delle pressioni del circolo quindi le pressioni arteriosa polmonare e della pressione venosa centrale sono già sufficienti per farci fare diagnosi di arresto cardiaco questo è una delle caratteristiche del paziente monitorizzato così come sappiamo che il protocollo dell'arresto cardiaco ci dice che bisogna iniziare il massaggio cardiaco in modo precoce immediato e che questo massaggio va fatto in modo efficace però sappiamo anche che sia in sala operatoria che in rianimazione ad esempio nel periodo covid abbiamo avuto svariati pazienti in queste condizioni il paziente può essere in una posizione non favorevole ma gli studi della letteratura ci dicono che è possibile anche in questa per esempio nella posizione prona effettuare un massaggio cardiaco efficace e che questo è sicuramente emodinamicamente equiparabile al massaggio cardiaco che faremmo in posizione supina e quindi comprimendo come sappiamo normalmente sullo sterno per quanto riguarda i ritmi defibrillabili anche qui il fatto di essere monitorizzati che il paziente sia monitorizzato ci induce a vedere immediatamente il ritmo e se il ritmo è defibrillabile sia il protocollo ad esempio di gestione del paziente in arresto in sala di emodinamica che in cardiochirurgia ci dicono che è indicato effettuare fino a tre shock consecutivi al posto del classico primo shock che faremmo nell'algoritmo normale dell'arresto cardiaco questa tipologia questa tripletta questa variazione quindi variante dell'algoritmo può essere inserita ci dicono le linee guida anche nel paziente monitorizzato ricoverato in una normale terapia intensiva e poi sappiamo che il protocollo ci dice di cercare le cause irreversibili dell'arresto e sia in sala operatoria che anche in alcune condizioni del paziente ricoverato ad esempio in terapia intensiva abbiamo tra tutte le cause irreversibili alcune in particolare che dobbiamo andare a ricercare ed escludere principalmente prontamente che sono per esempio l'ipossia che può essere legata spesso alla gestione delle vie aere magari difficile nel momento in cui andiamo a intubare un paziente oppure a una dislocazione del tubo edotracheale in paziente già intubato oppure per esempio in sala operatoria a condizioni di laringospasmo ad esempio legate a una condizione di anafilassi o il broncospasmo serrato in pazienti asmatici sono tutte condizioni che lo stesso monitor ci consente di individuare e eventualmente gestire per quanto riguarda l'ipovolemia naturalmente nella sala operatoria l'emorragia è una delle cause più importanti collegate appunto a ipovolemia e ricordiamo che oggi abbiamo degli strumenti avanzati come l'ecografia anche l'ecografia dell'ansesofagea o l'utilizzo di endoscopia o di angiografia per esempio in sala di emodinamica che ci consentono di fare diagnosi del punto della posizione in cui sta avvenendo l'emorragia aiutandoci quindi a gestire e risolvere magari il problema correlata all'ipovolemia sappiamo anche che l'anafilassi può essere una condizione presente in sala operatoria ricordiamo che tra tutti i farmaci somministrati per il 60% delle reazioni anafilattiche i bloccanti neuromuscolari sono i responsabili di una reazione di tal tipo abbiamo poi i tossici considerando che in questi contesti quindi sia in sala operatoria che in terapia intensiva il paziente spesso fa farmaci in infusione continua che possono accidentalmente essere somministrati in dosaggio non corretto come ad esempio a causa di un malfunzionamento di una pompa infusionale oppure ricordiamo la tossicità sistemica da anestetici locali come una delle cause legate appunto ai tossici che si può verificare in sala operatoria ma di questo ce ne parlerà dopo Alberto anche le altre cause anche se meno frequenti possono presentarsi in un contesto di sala operatoria o di terapia intensiva come la trombosi polmonare la coronarica mentre per l'ipercalemia considerando che i pazienti di solito sono più controllati in quanto effettuano frequenti emogassanalisi l'ipercalemia la vediamo un po' più frequente nel paziente pediatrico per esempio a causa di emotrasfusione o grave acidosi metabolica e infine anche queste un po' meno frequenti ma possibili abbiamo l'opnotura ciperteso o il tamponamento cardiaco che sono legate a una condizione di trauma pre-operatorio potrebbero essere ad esempio provocate da manovre durante il posizionamento di un catetere venoso centrale ed ultima soprattutto in un ambiente di sala operatoria ricordiamo l'ipertermia maligna legata alla sommissazione di anestetici volatili e di sul cinicoli anche se questo è un farmaco che si utilizza molto meno negli ultimi anni nel paziente monitorizzato abbiamo poi delle indicazioni importanti riguardo la qualità del massaggio cardiaco all'eventuale ROSC abbiamo come già detto il monitoraggio emodinamico che ci dà sotto massaggio ad esempio informazioni preziose sulla pressione sistolica che si raggiunge sotto massaggio ricordiamo almeno di mantenerci sopra i 65 mm di mercurio di sistolica i 25 di diastolica per ottimizzare anche la perfusione coronalica e abbiamo praticamente sempre a disposizione l'entai del CO2 che è preziosa sia per darci indicazioni sulla qualità del massaggio sia eventualmente sulla presenza di ROSC anche se ricordiamo che le ultime linee guida stressano il fatto che l'entai del CO2 può essere utilizzata come indice di ROSC per rimandare la somministrazione di adrenalina ma non per interrompere il massaggio infine sono pazienti come abbiamo detto presenti assistiti in contesti estremamente specialistici quindi abbiamo a disposizione per il loro per la loro assistenza dei massaggiatori meccanici dei dispositivi per esempio di assistenza ventricolare come ricordiamo l'impella per l'assistenza anche durante massaggio cardiaco in sala di emodinamica o in cui si può considerare la possibilità di utilizzare la circolazione estracorporea per proseguire i tentativi rianimatori nel frattempo che cerchiamo di risolvere la causa reversibile che abbiamo individuato per quanto riguarda il post-ROSC non ci sono molte novità rispetto all'algoritmo normale anche in sala operatoria in questa review del 2017 ad esempio l'ipotermia si è dimostrata essere associata a un aumento di infezioni ma non di insanguinamento tuttavia anche in questo caso come sappiamo l'ipotermia non si è rivelata essere un fattore predittivo favorevole dell'outcome funzionale del paziente per cui le indicazioni restano quelle di un controllo della temperatura come nell'arresto cardiaco in altri contesti abbiamo detto che il paziente intervore assistito durante intervento chirurgico ma anche in terapia intensiva è un paziente circondato da equip spesso molto specializzate può essere soccorso con dei mezzi assolutamente avanzati ma ricordiamo che tutto questo è condizionato dal lavoro di team e dai ruoli predefiniti all'interno del team che deve assistere il paziente questo ad esempio fa parte del protocollo della gestione del paziente nell'arresto cardiaco in cardiochirurgia ma come in questo caso in tutti gli altri set che vanno dalla sala operatoria tradizionale alla terapia intensiva è indubbio che le linee guida del 2021 di ERC lo stressano molto è indubbio che è importantissimo avere dei ruoli predefiniti ed essere estremamente addestrati al lavoro di gruppo proprio perché a volte le azioni le procedure che dovremmo intraprendere sono delle procedure estremamente efficaci ma anche molto complesse e anche qui fondamentale come già detto sono le abilità non tecniche che vanno dalla consapevolezza della situazione alla gestione del team quindi comunicazione e coordinamento del team di cui abbiamo già parlato alla pianificazione all'identificazione delle varie situazioni che dovremmo affrontare e alla decisione di agire in un certo modo e di rivalutare ciò che abbiamo fatto e infine soprattutto e ma direi non infine ma all'inizio di tutto resta la formazione formazione che migliora l'outcome formazione soprattutto specifica in questi contesti in cui come detto bisogna addestrarsi ad assistere pazienti con situazioni particolari e in gruppi composti da specialisti che però devono interagire tra loro in condizioni anche a volte molto complesse quindi riassumendo l'arretto cardiaco in ambiente monitorizzato può essere diagnosticato e trattato precocemente nei ritmi defibrillabili ricordarsi che si può considerare la tripletta di shock invece del singolo primo shock il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa dell'entrata dal CO2 utilissimo per valutare la qualità del massaggio cardiaco ricordiamoci che come sempre dobbiamo garantire un massaggio cardiaco efficace questo può essere complesso in alcune situazioni ma ad esempio il massaggio in posizione prona ci aiutano a soccorrere i pazienti anche in queste particolari situazioni in sala operatoria in terapia intensiva e in sala timodinamica comunque abbiamo a disposizione dei dispositivi per il massaggio meccanico o l'eventuale rianimazione con circolazione estracorporea da ovviamente integrare con la gestione dell'arresto cardiaco tradizionale è il fondamentale il lavoro in team e le non technical skill per cui è necessario sempre di più approfondire protocolli dedicati e ruoli prestabiliti e poi come sempre la formazione è fondamentale in tutti questi contesti per migliorare la promesi del nostro paziente io vi ringrazio ho terminato passo la parola a Andrea Alberto grazie eccomi grazie Gabriella grazie per aver aggiunto un altro tassello a questo quadro che stiamo componendo sulla gestione dell'arresto cardiaco in particolari circostanze ancora una volta Gabriella ha posto l'accento e l'attenzione ci ha fatto l'accento e l'attenzione sulla capacità di individuare l'arresto cardiaco o il deterioramento in questo particolare contesto quello della sala operatoria e ci ha dato indicazioni su come trattarlo al meglio ancora una volta avete visto come la gestione delle risorse del team anche quella la comunicazione e la capacità di coordinare le risorse che spesso in sala operatoria sono tantissime ma come diceva Gabriella farmaci strumenti tutto quello che vorremmo avere gestione della via aere ma anche qui se ci perdiamo non tanto su degli aspetti tecnici ma sugli aspetti comunicativi come esperienza di molti di noi si crea comunque il caos e l'efficacia dei soccorsi può essere può essere ridotta e affrontiamo l'ultimo pezzetto di questo nostro percorso nella gestione dell'arresto cardiaco all'interno dell'ospedale entrando in una nuova realtà che è quella della nuova relativamente insomma che si è andata espandendo negli ultimi anni che è quella dell'anestesia in un ambiente che non è la sala operatoria la gestione delle varie procedure che possono essere fatte ambulatorialmente in regime spesso di dei hospital e che rientrano nella definizione ormai condivisa di NORA non operating room anesthesia e con un particolare diciamo attenzione una particolare attenzione alla tossicità anticipata da Gabriella la tossicità da anestetici locali come una delle possibili cause reversibili il destino baro ma piacevole ha fatto sì che questa ultima relazione di questo ultimo webinar questa serie di bellissimi webinar toccasse per una serie di giri e di rigiri a colui che con entusiasmo competenza e molta molta pazienza ha curato tutte e quattro le edizioni di questi webinar quindi mi fa particolarmente piacere cedere la parola all'ultimo relatore della serata e dell'anno per questi nostri webinar che è Alberto Cucino che come tutti ormai sapete è un anestesista e un rianimatore dell'ospedale di Trento così con molta essenzialità come si addice a voi del nord grazie Alberto ti cedo la parola grazie Andrea ti ringrazio a nome di IRC di Italia Resuscitation Council dei soci e di coloro che ci stanno ascoltando ti ringrazio molto per questo lavoro di coordinamento che hai fatto spero chissà che tu magari ti ritrovi a continuare questo lavoro anche nel prossimo anno prego ti ringrazio Andrea e vabbè speriamo di continuare colgo l'occasione visto che abbiamo un po' di margine per fare prima un annuncio prima uno tecnico che a riguardo al webinar lo vedete in diretta lo potrete rivedere potete diffondere il fatto che sarà registrato lo potete rivedere sul canale YouTube sulla pagina Facebook e sul sito di Italia Resuscitation Council e poi importantissimo abbiamo tra poco ormai quasi un mese il congresso a Rimini con la deadline per l'invio degli abstract il 20 novembre quindi vi invito ultimi dieci giorni mandate 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 verranno premiati i primi due abstract con un premio economico che fa sempre piacere soprattutto ai giovani ricercatori in collaborazione col Journal of Clinical Medicine che è una collaborazione voluta dal direttivo dal presidente Giuseppe Ristagno dal comitato scientifico speriamo che anche questa possa rinnovarsi quindi scrivete scrivete mandateci abstract che verranno valutati e premiati allora passiamo a le dolenti note cioè criticità durante Nora non operating room anesthesia e anestesia locoregionale dolenti note perché ahimè devo fare una disclosure come si dice in lingua anglosassone cioè devo dirvi la verità cioè che io lavoro in terapia intensiva lavoro in terapia intensiva praticamente ormai da da secondo anno di specialità ho visto poco sala nella mia vita tra varie vicissitudini non ne vado fiero perché mi sento un anestesista animatore quasi a metà però così è quindi mi sono chiesto ma che che ce parlo a fa che ve parlo a fa di di anestesia locoregionale di Nora che di solito è appannaggio di i miei colleghi che stanno in sala operatoria e sono dotati di tutte queste strumentazioni poi ho ripensato un po' al nostro lavoro di anestesisti rianimatori a che cosa vuol dire Nora cioè è un'anestesia condotta in ambienti diversi della sala operatoria e nella definizione inglese che sono andato un po' a rivedermi per per l'occasione a vello perché usano il termine remote cioè ambienti remoti lontani dal dalla dalla culla familiare della sala operatoria che è un po' un luogo di sicurezza soprattutto e allora ho ripensato al mio di lavoro appunto quello un po' di tutti i giorni che è di rianimatore sì in terapia intensiva e che in coda tutte le presentazioni di Federico di Alessandro e di Stefano su Rapid Response System in ospedale però alle volte anche quello ahimè perché non è che siamo organizzatissimi al cento per cento in questa fase storica nel nostro ospedale con una vera strutturazione ma abbiamo una sorta di MET che interviene nei casi di emergenza ed interviene anche in tutte quelle situazioni di richiesta rianimatoria urgente quindi ho ripensato un po' al mio lavoro ho pensato ma cardioversione elettrica ho pensato alle sedazioni in pronto soccorso per lussazione ho pensato alla radiodiagnostica dei nostri pazienti della terapia intensiva che alle volte in fase finale nella fase predimissione però in cui ci sono ancora stati di agitazione hanno bisogno di fare delle diagnostiche magari avanzate con la risonanza ho pensato tutte le sedazioni procedurali rachicentesi pochi giorni fa mi è proprio capitato di essere in pronto soccorso e di dovermi occupare di un paziente anziano a cui fare una rachicentesi e poi magari accessi venosi difficili tutte situazioni in cui spesso ci viene chiamata ci viene richiesta veniamo chiamati e ci viene richiesta una sedazione e allora tutto sommato mi sono rincuorato ho pensato che qualche cosa rispetto alla alla Nora alla non operating room anesthesia posso posso raccontarlo senza troppa vergogna e e allora quando parliamo di Nora dobbiamo sempre ricordarci che stiamo considerando una sorta di triade un un triangolo che è un elemento spesso che una figura geometrica che spesso ritorna in medicina la medicina è fondata sull'assistenza sulla formazione sulla ricerca e così l'anestesia si fonda su una triplice miscela di farmaci così l'anestesia le sedazioni in ambiente non di sala operatoria si fonda su una tripletta cioè c'è un paziente che si interfaccia con una procedura che si realizza all'interno di un ambiente e tutti e tre questi elementi fanno sì che la miscela possa essere estremamente sicura e rincorante oppure estremamente esplosiva un paziente può richiedere il nostro intervento il nostro intervento può essere richiesto per la gestione di un paziente perché è banalmente ansioso un paziente ansioso claustrofobico non riesce a fare una procedura una diagnostica come un attacco una risonanza e quindi ha necessità di una sedazione oppure ci sono delle disabilità neurologiche connatali piuttosto che delle malattie degenerative tipiche dell'anziano malattie che limitano la collaborazione dei pazienti disturbi del movimento le banali tra virgolette banali convulsioni una crisi epilettica che richiedono una sedazione e magari poi una sedazione per essere portati in TAC per fare una diagnostica fino a disturbi più complessi di tipo corea o disturbi motori discinetici il dolore può essere una motivazione per il nostro intervento e fare una sedo analgesia l'instabilità emodinamica cardiocircolatoria il rianimatore spesso è chiamato la nostra realtà dove l'ospedale di Trento rappresenta un hub per tutta la patologia traumatica della provincia l'accesso di pazienti traumatizzati anche con instabilità emodinamica è qualcosa di molto frequente e l'instabilità emodinamica sappiamo è uno dei fattori che possono rendere necessaria anche un'anestesia che si verifica appunto al di fuori di una situazione di sala operatoria pazienti con comorbidità significative che possono necessitare di una sedazione per rendere delle procedure più tollerabili o più sicure e poi l'età pediatrica che è un po' un po' un grande catalizzatore di sedazioni analgesie per fare un po' tutte le procedure in ospedale sappiamo che l'organizzazione mondiale della sanità insieme all'UNICEF sono promotori dell'ospedale senza dolore soprattutto per il bambino l'ospedale amico del bambino è il nostro precipuo compito quello di affiancare il bambino una volta entrato in ospedale per far sì che venga tolta eliminata la componente dolorosa ma anche quella ansiosa durante molte procedure quindi la componente paziente è sicuramente cruciale e è cruciale per tutte le richieste che possono fare in modo di attivare l'anestesista e l'animatore ma anche perché il paziente deve essere accuratamente scelto in quei casi in cui l'anestesia non in sala operatoria è un evento elettivo la procedura procedure dolorose procedure di lunga durata procedure che richiedono un posizionamento particolare sono sicuramente dei fattori che richiedono il nostro intervento richiedono una seno analgesia e l'ambiente l'ambiente è un elemento cruciale in tutto ciò perché è uno dei fattori più importanti per determinare la sicurezza di paziente e operatore ma sappiamo che purtroppo la vita reale molte volte si discosta dagli standard abbiamo degli standard pubblicati dalla dall'ASA dall'American Society of Anesthesiologists che sono molto dettagliati e ovviamente enumerano una serie di strumenti di monitoraggio e strumenti di emergenza che sono assolutamente auspicabili in ogni ambiente in cui si faccia un'anestesia detto questo sappiamo che la vita reale che implica anche situazioni di emergenza urgenza ci porta molto spesso a compiere delle procedure in anestesia o in sedazione anche al di fuori di ambienti adeguatamente attrezzati dal punto di vista prettamente anestesiologico questo è abbastanza banale non voglio come dire annoiare colleghi anestesisti ma serve per inquadrare il problema anche per i non anestesisti sappiamo che l'anestesia è per certi versi la punta dell'iceberg l'anestesia generale è quella che si fa di certo in sala operatoria per un intervento chirurgico maggiore una pancia aperta anche se oggigiorno devo dire che so per esperienza dei racconti di colleghi che la loco regionale si sta molte volte soppiattando anche l'anestesia generale però teniamo vogliamo l'inquadramento tradizionale per cui l'anestesia generale è il classico trattamento per un paziente che debba fare una chirurgia addominale ad esempio maggiore ma l'anestesia generale è la punta di un iceberg che passa attraverso una semplice ansiolisi somministrazione di benzodiazepine per tranquillizzare un paziente molto ansioso o claustrofobico la sedazione cosciente fino alla sedazione profonda dell'anestesia generale come vedete è una scala di grigi non abbiamo un annetto passaggio non ci sono delle chiusure trancheant tra un capitolo e l'altro ho rappresentato con gli simbolini che vedete a sinistra la livello di veglia il livello di responsività l'aringoscopio ci ricorda la pervietà e la sicurezza delle vie aeree polmone sta per la ventilazione e il cuore ci parla del circolo quindi se nell'ansiolisi il paziente è responsivo dovrebbe essere tranquillo ha le vie aeree pervie è in ventilazione spontanea e il circolo assolutamente autonomo dovrebbe esserlo per i farmaci che noi abbiamo somministrato al contrario in anestesia generale avremmo bisogno di un controllo avanzato delle vie aeree generalmente che può essere anche una ventilazione in maschera fatta da personale e da personale anestesista o infermieri di sala operatoria quindi comunque personale con le competenze per una gestione avanzata delle vie aeree nel mezzo troviamo di tutto non sono possibili delle delle categorizzazioni transchan motivo per cui è molto importante procedere in assoluta sicurezza quando si fanno delle sedazioni al di fuori delle sale operatorie gli eventi avversi non sono sicuramente un problema di questo tipo di procedure non abbiamo grande letteratura a riguardo non ci sono grandi dati ciò che sappiamo deriva da questo sistema assicurativo tipico dei paesi anglosassoni che passa attraverso i closed claims cioè delle segnalazioni alle agenzie assicurative e da queste sappiamo che sicuramente in anestesia ambulatoriale definiamola non in sale operatoria purtroppo deriva una mortalità aumentata rispetto a le anestesie e le sedazioni fatte in sale operatoria e nella maggior parte dei casi questa mortalità aumentata è come è facilmente immaginabile diretta conseguenza di una depressione respiratoria che dalla scala di grigi dal continuum della sedazione dell'anestesia che abbiamo visto prima deriva da una over sedation da una mal calibrata sedazione una mal calibrata sedazione rispetto alle aspettative rispetto agli strumenti messi in essere per proteggere soprattutto le vie aere quindi passaggio fondamentale ovviamente la prevenzione la sicurezza abbiamo detto e la prevenzione e la sicurezza passa attraverso degli strumenti di prevenzione due raffigurati in immagine sono molto tra virgolette banali e comuni oggigiorno ma molto facilmente dimenticabili in situazioni di emergenza situazioni di crisi in ambienti come il pronto soccorso o nei casi in cui ci sia un'emergenza al di fuori delle sale operatorie o delle rianimazioni che sono il pulsossimetro e la capnografia il monitoraggio della entai dal CO2 che sono due strumenti tanto banali quanto fondamentali per darci delle informazioni non solo sulla respirazione ma come ci ha detto Gabriella poco fa anche sul circolo un entai dal CO2 presente e di valori normali di con curve normali ci rassicura sulla presenza di un circolo una pulsossimetria con un'onda adeguata e con un livello di saturazione adeguato anche quella ci rassicura o ci può rassicurare in un contesto adeguato sulla perfusione periferica ovviamente poi abbiamo il monitoraggio delle CG e la pressione arteriosa non ultime anzi direi che sono l'elemento principale come ci diceva Federico nella sua prima presentazione ma qui dichiaro anch'io il mio conflitto d'interesse io ho la maglietta di IRC sono socio e sono membro del comitato scientifico la formazione e chi ha una formazione IRC Italia Resuscitation Council ha sicuramente una marcia in più e la preparazione per essere pronti alle situazioni di crisi sono gli elementi cruciali per poter utilizzare questi strumenti di prevenzione ed interpretarli in caso di arresto cardiaco beh non esiste un algoritmo dedicato a queste situazioni ma ritorniamo alle 4H alle 4T con un particolare attenzione ovviamente alle 4H in italiano ricordandoci che la maggior parte dei casi di crisi durante sedazione anestesia in ambiente non saloperatoria è legato all'ipossia da non dimenticare ovviamente è la triade paziente ambiente procedura quindi e lo rivedremo anche tra poco parlando di anestetici locali certo il problema la crisi acuta del paziente l'arresto cardiaco fino all'arresto cardiaco può essere causata direttamente dall'anestesia e quindi da una mancata protezione delle vie aeree e una depressione respiratoria ma ricordiamoci che il paziente è sottoposto ad una procedura quindi non dimentichiamo possibili complicanze della procedura come un sanguinamento massivo come un'embolia polmonare o di nuovo torniamo con le motorace le motorace per teso che possono essere ad esempio complicanza di posizionamento come diceva Gabriella di un catetere menoso centrale quindi ricordiamoci l'elemento più probabile tipo sia soprattutto se il nostro paziente non è adeguatamente monitorizzato per qualche motivo ma ricordiamoci che possono entrare in gioco anche a altri fattori legati alla procedura e al paziente la triade paziente procedura ricordiamoci l'ambiente ho messo il disegno di una poltrona del dentista perché un ambiente in cui anche in ospedale possono essere fatte delle anestesie è la sala odontoiatrica dove possono essere fatte anestesie ad esempio a soggetti magari non autosufficienti con disabilità e la sala odontoiatrica in questo caso le raccomandazioni e le linee guida 2021 IRC Italia Resuscitation Council ci vengono in aiuto e ci dicono attenzione l'algoritmo BLS è quello universale non c'è nulla da ricordare nulla da modificare ricordiamoci di possibili confondenti o complicanti come gli anestetici locali di cui parliamo ma ricordiamoci anche dell'ambiente e quindi abbassiamo il lettino e se c'è uno sgapello del dentista posizioniamolo sotto allo schienale per far sì che si aumenti la stabilità del lettino durante un massaggio cardiaco cioè attenzione a non spaccare e fare ulteriori danni al paziente rompendo un lettino odontoiatrico quindi facendo cadere il paziente sul pavimento perciò attenzione all'ambiente e prendiamo in considerazione quali possono essere i rischi aggiuntivi e le problematiche da l'anestesia in ambiente non sala operatoria è facilmente collegabile all'anestesia locoregionale che è una tecnica anestesiologica molto utilizzata da noi anestesisti animatori soprattutto in ambiente ortopedico urologico ginecologico quindi anche in sala operatoria ma è una tecnica anestesiologica che è ormai appannaggio anche di altre specialità viene utilizzata ad esempio dai odontoiatri viene utilizzata per piccole procedure chirurgiche ambulatoriali anche dai chirurghi dagli ortopedici senza la presenza di un anestesista e attenzione perché è un possibile fattore di rischio per il paziente anche l'anestesia l'anestetico locoregionale ma non solo l'anestetico locale può essere causa di rischi per il paziente ricordiamoci di nuovo che il paziente è sottoposto ad una procedura in questo caso è riportato due immagini TAC tratte dal British Journal of Medicine da un case report di qualche anno fa dove viene riportato così radio opaco nei tronchi polmonari in aorta l'evidenza di un'embolia ad esempio da cimento quindi durante una procedura ortopedica in questo caso siamo in sala operatoria ma il paziente è andato incontro a deterioramento emodinamico fino all'arresto cardiaco non è stato causato però dall'anestetico locale quindi parliamo di anestesia locoregionale teniamo alta la soglia di sospetto ma teniamo anche alta la soglia di sospetto per tutto quello che sta succedendo al paziente in questo caso appunto una trombosi cioè una tromboembolia la tossicità ad anestetici locali deriva direttamente dall'azione farmacologica di questi farmaci che sono dei farmaci che agiscono sui canali ionici che ci sono nelle cellule e particolarmente nelle cellule nervose la loro azione è proprio quella di andare ad alterare i canali in modo da ritardare o bloccare la trasmissione nervosa è facilmente immaginabile come una diffusione a livello sistemico di questi anestetici quindi di questi farmaci che bloccano tra virgolette i canali dove passano gli ioni possa provocare gravi problemi sia a livello nervoso che sia a livello cardiocircolatorio le cellule più attive a livello di canali ionici e pompe ioniche sono infatti i neuroni dove gli scambi ionici servono per propagare le informazioni e le cellule muscolari di cui il cuore è fatto cuore che pompa proprio attraverso uno scambio di ioni tra dentro la cellula e l'esterno della cellula che permettono l'attivazione del meccanismo di contrazione quindi la tossicità nelle estetici locali è legata alla loro diretta azione farmacologica ed è una conseguenza di assorbimento sistemico a causa di sbagliati dosaggi a causa di varianti anatomiche per cui si trovano basi sanguini non noti per cui c'è un assorbimento maggiore oppure non accidentale somministrazione intravascolare da queste due modalità di innesco della tossicità deriva anche la variabilità di timing attenzione perché una tossicità immediata è sentinella è campanello d'allarme per una verosimile somministrazione intravascolare accidentale mentre nel caso di assorbimento sistemico molto spesso la comparsa di tossicità è una comparsa ritardata è una comparsa che può avvenire dopo anche 15-30 minuti e può essere anche una conseguenza delle somministrazioni ripetute di anestetici quindi ha un effetto additivo della somministrazione di anestetici locali ci vengono in aiuto da una parte le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare l'opinione ressuscitation calcine e ilcor e dall'altra abbiamo la fortuna in Italia anestesisti rianimatori di avere queste buone pratiche cliniche pubblicate dal C-Arti che è la società italiana di anestesia rianimazione terapia intensiva e analgesia che ovviamente mettono al primo posto la prevenzione per cui di nuovo come nell'anestesia ambulatoriale al di fuori della sala operatoria la preparazione è il nostro obiettivo primario ed è il nostro miglior arma per evitare criticità così anche in anestesia a loco regionale l'utilizzo di decografo per l'esecuzione dei blocchi e delle anestesie plessiche l'utilizzo delle minor dosaggi possibili in anestetico locale le iniezioni graduali dell'anestetico con ripetute aspirazioni sono elementi cruciali per far sì che possiamo evitare di arrivare a una tossicità sistemica di anestetici locali ed ovviamente in prevenzione secondaria quindi in prevenzione e riconoscimento rapido di un'eventuale tossicità è fondamentale in montoraggio per cui anche nel caso dell'anestesia alco regionale che può sembrare tra virgolette la sorella minore dell'anestesia generale più sicura meno rischiosa e sicuramente lo è da un punto di vista soprattutto della gestione delle vie aere ma non dimentichiamoci la necessità e l'importanza del monitoraggio la cosiddetta last tossicità sistemica d'anestetici locali si manifesta sostanzialmente con due grandi capitoli da una parte abbiamo una iniziale eccitazione del sistema nervoso centrale che può essere manifestata da eccitazione da crisi convulsive seguite più o meno rapidamente da una depressione neurologica quindi dal sopore fino allo stato di coma vero e proprio e associate a le manifestazioni nervose ci sono le manifestazioni a livello del sistema cardiovascolare con una eccitazione anche qui cardiaca iniziale quindi tachicardie e tachiaritmie che molto spesso evolvono in depressione miocardica quindi un difetto contrattile fino all'arresto cardiaco attenzione attenzione a mantenere sempre una soglia di attivazione nei confronti della tossicità sistemica ad anestetici locali piuttosto alta perché i fattori confondenti e la variabilità della sintomatologia sono sempre in agguato come vi ho detto la sintomatologia è molto variabile nella manifestazione la durata della fase eccitatoria e delle fasi depressive sono molto variabili e anche l'associazione tra sintomi neurologici e sintomi cardiaci può essere molto variabile quindi sintomi molto variabili una sintomatologia molto sfumata e dall'altra possiamo avere dei fattori confondenti come la sedazione endovenosa nulla di più comune nel fare ad esempio una procedura in anestesia di piccola chirurgia o anche di chirurgia maggiore in sala operatoria una protesi d'anca un intervento ortopedico nel quale durante il quale viene anche somministrata un'anestesia una sedazione endovenosa che quindi può pregiudicare la valutabilità dei sintomi neurologici di una tossicità sistemica ad anestetici locali fattori di rischio sono dei fattori molto generali sicuramente l'età estreme quindi i bimbi i bambini l'età pediatrica e il grande anziano sono molto a rischio e malattie che coinvolgano gli organi emuntori e soprattutto il fegato che è molto importante nella clearance degli anestetici locali sindrome malattie metaboliche patologie del sistema nervoso e poi fattori di rischio molto importanti da tenere a mente sono legati alla tecnica utilizzata quindi al tipo di blocco al tipo di somministrazione alla localizzazione della somministrazione è diverso fare una somministrazione a livello epidurale o a livello sottocutaneo o a livello fasciale o a livello plessico quindi abbiamo degli assorbimenti molto variabili e molto differenziati e attenzione alle comorbidità attenzione anche al tipo di anestetico che viene utilizzato quindi abbiamo anestetici più cardiotossici ad esempio rispetto ad altri che sono di più recente introduzione e con meno effetti anche in caso di assorbimento sistemico il trattamento nei casi gravi quindi ricordiamoci di mantenere sempre una soglia di attenzione molto alta e una sensibilità molto alta per riconoscere una sindrome da assorbimento sistemico e tossicità sistemica negli estetici locali e dall'altra una prestare molta attenzione all'evoluzione e all'evolutività dei sintomi quindi in tutti quei casi che vengono ritenuti anche potenzialmente seri abbiamo la comparsa di convulsioni vediamo un paziente che sta evolvendo oppure molto letargico stanno comparendo delle aritmie ci vuole prontezza di riconoscimento e prontezza di trattamento ricordiamoci che il trattamento pronto è molto più importante della modalità questo ce lo ricorda sia le linee guida per la reanimazione cardiopolmonare che le buone pratiche cliniche si arti quindi la somministrazione va fatta in bolo seguita da un'infusione trovate i dosaggi adesso li rivediamo in maniera anche un pochino più chiara nell'algoritmo che ho tratto dalle buone pratiche si arti i dosaggi sono 100 millilitri di emulsione di pilica al 20% in caso di arresto cardiaco sintomi gravi somministrazione endovenosa in bolo in 2-3 minuti 100 millilitri se il paziente è più di 70 kg oppure 1,5 millilitri pro chilo nei casi di pazienti pediatrici o con peso minore di 70 kg seguiti da un'infusione endovenosa in 15-20 minuti di di nuovo 200-250 millilitri se il paziente è superiore ai 70 kg 0,25 millilitri al minuto nei casi di pazienti al di sotto dei 20 kg valutare al termine di bolo infusione del primo bolo infusione la stabilità emodinamica ed eventualmente ripetere continuare un'infusione ripetere un'infusione per altri 10 minuti è importantissimo mantenere in osservazione questi pazienti ed è importante ricordare anche la dose massima è raccomandata nella prima fase quindi bolo e infusione iniziale che non deve superare 12 millilitri pro chilo concludendo credo che le due le due parole chiavi per condurre in sicurezza un anestesial di fuori della sala operatoria e utilizzare anestetici locali siano avere strumenti di monitoraggio avere una formazione adeguata per interpretarli e avere una formazione adeguata per rispondere alle crisi e dall'altra mantenere sempre un'alta soglia di sospetto e di attenzione sia riguardo alle criticità del paziente in anestesia sedazione generale al di fuori della sala operatoria ricordiamoci che siamo sempre in un ambiente sfavorevole non siamo in casa nostra non siamo in una sala operatoria dove tutto è organizzato e tutto è a disposizione ma siamo in un ambiente tra virgolette anche qui ostile come lo è la strada come lo è la montagna e nei casi di utilizzo negli estetici locali ritorniamo di nuovo monitoraggio e prevenzione e mantenere sempre un'elevata soglia di sospetto nei casi di arresto cardiaco va poi ricordato che non vi sono delle sostanziali modifiche all'algoritmo universale di BLS e LS se non la somministrazione della emulsione lipidica al 20% che va fatta non appena abbiamo comparsa di sintomi gravi e è da tenere presente la possibile non responsabilità alle manovre reanimatorie e nei casi in cui lo si ritenga opportuno e vi sia la disponibilità e vanno prese in considerazione metodiche avanzate della reanimazione come l'utilizzo di compressioni meccanici per sostenere il circolo ed arrivare fino al supporto meccanico extracorporeo con l'ECMO e quindi la circolazione extracorporea per permettere la l'eliminazione degli anestetici locali e quindi il ripristino in un circolo spontaneo vi ringrazio e vi ricordo ancora la possibilità di inviare il vostro abstract entro il 20 di novembre per il nostro congresso a Rimini 16, 17, 18 dicembre grazie grazie a te Alberto grazie ancora per la relazione molto molto interessante e molto utile a tutti perché tutti spesso ci troviamo coinvolti in questo tipo di procedure e mentre ti facciamo riprendere fiato ti ringrazio ancora per aver organizzato questi webinar e mentre riprendi fiato e pensi a cosa dobbiamo fare nei prossimi minuti ringrazio tutti i relatori di questo webinar ringrazio loro ringrazio i moderatori e le loro interessantissime relazioni vi porto i saluti al nome del direttivo e del presidente Giuseppe Ristagno direttivo che si avvia le ultime settimane di carica e poi ci ricaricheremo con un nuovo direttivo e voglio però ringraziare anche la segreteria IRC per l'assistenza tecnica in particolare Matteo Limardi che ci sta sostenendo in questi collegamenti adesso che ho fatto tutti i ringraziamenti vi ricordo siamo alla soglia delle due ore di webinar quindi credo che saremo tutti abbastanza pieni di nozioni pieni di informazioni e che se avete domande forse non abbiamo tempo di vederle e leggerle oggi ma c'è la possibilità sempre o già questa sera o se rivedrete questo webinar nei giorni prossimi le possiate inviare alla segreteria sarà nostra cura e piacere cercare di dare delle risposte Alberto dimmi se ho dimenticato che ho fatto sicuramente qualcosa a qualcuno no c'è stato perfetto grazie grazie a te Andrea grazie veramente a tutti a tutti i relatori ai moderatori di oggi e vabbè mi concedo mentre prendo fiato e riordino le idee ringrazio anche tutti i moderatori e i relatori di queste quattro di questi quattro webinar tematici è stata un'avventura devo dire organizzarli ma è stato veramente molto piacevole ringrazio anche la famiglia che mi ha lasciato da casa quattro volte libera dai schiamazzi delle bambine e ringrazio ovviamente la segreteria di Irk e Matteo che mi ha supportato e supportato nell'organizzazione aggiornando e sistemando poster e programmi in tempo reale e quindi a questo punto sto guardando in tempo reale Facebook dove abbiamo fatto veramente bravissimi a tutti un grande successo non abbiamo in questo momento domande ne ho una io che non so siamo in extremis coi tempi ma poi lascio visto che ho scritto tavola rotonda avevo queste personalità questa volta past president past past president e speravo anche il president ma non ci ha potuto accompagnare oggi per impegni universitari istituzionali e la domanda è questa Federico Andrea ma anche Alessandro che hai potuto toccare con mano con la tua survey la situazione degli ospedali italiani credete che ci siano margini per una uniformazione a livello nazionale Federico ha parlato del progetto europeo e del PNRR c'è una prospettiva c'è una possibilità per IRC per SIARTI per le società scientifiche di fare in modo che i sistemi di risposta rapida vengano implementati in maniera uniforme in Italia e o quantomeno si possa avviare il processo e quindi garantendo soccorsi avanzati e tempestivi come nell'extra ospedaliero con dei criteri anche da rispettare e delle numeri da raccogliere anche nell'intra ospedaliero Alessandro vuoi dire qualcosa tu? Sì grazie per questa precisazione io credo assolutamente sì non che ci siano delle possibilità ma che ci debbano essere delle possibilità e sarebbe bello che appunto società scientifiche come citavi tu IRC ANIARTI SIARTI dove appunto ci sono sia medici che infermieri in prima linea nella nelle terapie intensive nelle aree critiche in generale debbano parlarsi per cercare di darsi degli standard nelle presentazioni abbiamo citato il sistema della Toscana che ha fatto questa organizzazione regionale del Piemonte ma questi standard condivisi devono appartenere a tutte le regioni italiane non è pensabile che ci siano ospedali con dei servizi eccellenti e ospedali dove questo servizio neanche ci sia noi non abbiamo avuto tempo di analizzare dei singoli delle singole realtà ci sono posti dove ad esempio il servizio di emergenza c'è solo in alcune fasce orarie ci sono posti appunto dove i medici si staccano stanno via tutto il giorno tutta la notte come diceva anche Stefano ma queste cose non possono accadere anche perché è già sbagliato se la rianimazione rimane scoperta per un giorno all'anno però uno dice è successo un giorno all'anno ma in un posto dove ci sono chiamate tutti i giorni e in cui il personale è chiamato andare o nei reparti o nel pronto soccorso questa cosa non può essere la realtà l'altra cosa è sui numeri non è possibile che addirittura nella survey emerge che a seconda delle fasce orarie ci sono dei numeri differenti per chiamare aiuto e sto pensando a con l'elevato turnover del personale che c'è stato soprattutto negli ultimi anni ma non è pensabile che uno a seconda anche del giorno dell'ospedale della fascia oraria possa ricordarsi il numero per l'emergenza da chiamare il numero dell'emergenza introspedaliera deve essere come il numero dell'emergenza extraspedaliero in tutta Italia stiamo arrivando a questo 112 c'era il 118 bene e per l'emergenza introspedaliera deve esserci un sistema similare grazie grazie Alessandro c'è qualcun altro dei dei relatori che vuole aggiungere qualcosa a quello che ci diceva Alessandro per rispondere alle domande di Alberto le provocazioni di Alberto fatemi coraggio posso intervenire io noi in realtà l'occasione di questo webinar mi ha un po' stimolato anche perché noi a livello regionale diciamo siamo in Campania io lavoro in Campania abbiamo una realtà ospedaliera pediatrica dove chiaramente centralizzata al Santo Bono ma con tante specialistiche pediatriche che non sono ben collegate quindi io ho colto quest'occasione anche per prendere innanzitutto consapevolezza della tematica di cui chiaramente ero sicuramente già a conoscenza però approfondirla e rendersi conto di come si può intervenire sulla prevenzione in ambito pediatrico che è una realtà particolare questo argomento diventa secondo me essenziale ho preso profondamente come dire consapevolezza di ciò mi sono anche rapportato per esempio con i colleghi del Gaslini penso che a breve avremo anche degli incontri insomma per poter scambiare la loro esperienza sicuramente molto avanzata in tal senso e poter intraprendere anche qui qui a Napoli un discorso di questo tipo talvolta c'è proprio una mancanza di comunicazione laddove ci sono delle competenze che non vengono giustamente sfruttate proprio a parte il numero di telefono a parte la difficoltà ma di base proprio la scarsa abitudine a confrontarsi in questo ambito per poter rafforzare per poter unire queste energie è chiaro c'è bisogno di un collegamento soprattutto in tempi non come dire non non difficili come quelli che stiamo vivendo ma è una necessità quindi faremo di necessità è virtù e nel mio piccolo spero di poter dare un contributo in tal senso mi auguro anche con con Stefano di poter come dire anche scambiare un po' di informazione in tal senso per unire un pochino queste queste energie queste consapevolezze grazie grazie molto Saverio ovviamente c'è molto da lavorare la prevenzione è sempre stata la miglior cura ce lo dicono già gli antichi e ovviamente per la prevenzione però è sempre difficile trovare delle risorse e questo forse è l'ostacolo con cui ci siamo tutti dovuti confrontare solo quando la crisi diventa eccessiva ci accorgiamo come appunto invece la prevenzione sarebbe molto molto più utile lo abbiamo sperimentato tragicamente e drammaticamente in questo ultimo anno e mezzo sicuramente la capacità di omogeneizzare questo tipo di risposte qualsiasi siano le risorse all'interno degli ospedali è una preoccupazione di tutti noi IRC ce l'ha sempre avuta sono quasi ormai dieci anni ma creo anche qualcosa di più che nel portafoglio di corsi di IRC entrò a forza il corso metal che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono ma che è un corso proprio dedicato con molta semplicità ad applicare i due rami che Federico ci descriveva nella sua relazione cioè quello del rapido riconoscimento oggettivo di un paziente che sta deteriorando e dell'organizzazione di una risposta che poi può essere anche molto adattata alla realtà in cui ci si trova a operare ma sicuramente questi aspetti andrebbero andrebbero e dovremmo continuare ad affrontarli e a diffonderli c'è anche l'idea c'è stata anche l'idea su forte segnalazione di alcuni nostri centri di formazione che operano in realtà che evidentemente sentono questa realtà come particolarmente viva di introdurre questi elementi come parte integrante del corso BLS come chiediamo di riconoscere velocemente il primo anello della catena della sopravvivenza dell'arresto cardiaco sarebbe importante anche avere gli elementi culturali proprio per imparare a riconoscere il paziente che sta per andare in arresto cardiaco e quindi allertare precocemente i soccorsi prima che l'arresto appunto arrivi e renda tutto più complicato quindi sicuramente l'esigenza di fare qualcosa di più a questo livello c'è non solo noi chi tra gli anestesisti ci sta ascoltando sa che la Siarti è da tempo che sta lavorando anche qui come aveva già fatto nel passato su un documento che appunto faciliti il riconoscimento alla risposta all'emergenza all'interno degli ospedali quindi sicuramente è una una di quelle aree da approfondire da colmare su cui riflettere su cui le linee guida già ci dicono qualcosa cioè che servono per migliorare la sopravvivenza e quindi ancora una volta abbiamo temi argomenti e campi in cui mettere la nostra passione la nostra creatività le nostre competenze e cercare ancora una volta di colmare e mettere a disposizione del paese di chi ci segue ancora degli strumenti culturali e operativi Alberto non so se ti abbiamo risposto se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa ma è anche bello scusate che ci sia una propria voglia anche di organizzare delle attività formative o di proporre degli percorsi operativi assistenziali per realtà specifiche come quelle che abbiamo sentito appunto nell'ambito pediatrico o nell'ambito della cardiochirurgia o nell'ambito della sala operatoria o delle anestesie o delle procedure fuori dalla sala operatoria quindi sono tutti campi molto interessanti che potrebbero produrre a loro volta delle offerte formative particolarmente forse necessari interessanti grazie C'è tanto da lavorare come al solito ci lasciamo sempre così ci fa molto piacere sempre bene è l'ora dello spritz o della cena o del qualche altra cosa buona dipende dalla latitudine noi andiamo a cena io io che potessi andrei direttamente a dormire ma cercherò di fare qualcosa di intermedio va bene ringrazio in particolare Gabriella e Federico che sono stati con noi nonostante gli effetti collaterali della terza dose che hanno fatto ieri e che li ha fortemente debilitati anche se Gabriella tu sembri un fiorellino di campo quindi ti ringrazio ma l'apparenza inganna Federico già è più lo vedo più così più frizzato ecco più invernato va bene Alberto se non ci sono altre cose da aggiungere io saluterei tutti ancora una volta vi ringrazierei direi di sì alla prossima alla prossima a Rimini grazie ciao 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 Grazie a tutti